Book Mania, appuntamento settimanale con l'editoria. Il sabato alle 11, gli autori raccontano i loro libri. In diretta su Ciao Radio e DTV Canale 210. Conduce in studio Erika Zini. Buongiorno a tutti coloro che si sono sintonizzati ora sul DTV 210 o sulle frequenze di Ciao Radio. Salutiamo anche chi ha seguito il programma precedente condotto da Mirko Benciveni. Che parla con noi, che salutiamo e che è ancora qui nei nostri studi. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Book Mania, una rubrica settimanale dove si parla di libri a 360 gradi. Quest'oggi abbiamo quattro libri di cui parlarvi, ognuno diverso, ognuno rivolto a un pubblico differente. Il primo libro di cui vorrei parlarvi oggi è questo, ve lo faccio vedere dal vivo, a cena con il vampiro, ovvero il seguito Io amo un vampiro di Abigail Gibbs, uscito per la casa editrice Fabry. Prima di parlare approfonditamente del libro, chiederei alla regia di mostrarci il book trailer. Violet ha preso la decisione più difficile della sua giovane vita. Rapita per aver assistito a una strage di umani compiuta dai vampiri, rimasta prigioniera perché figlia del ministro della difesa inglese, ha scelto di tradire la sua razza e rimanere con i nemici, con i non morti che nascondono la loro ferocia sotto l'apparenza di giovani bellissimi. Soprattutto uno, Caspar, il principe dei vampiri. Bello da togliere il fiato, capace di atti di crudeltà e feroce, di momenti di dolcezza e compassione. Ed è proprio il principe, la causa della scelta di Violet, che si è perdutamente innamorata di lui, nel cui petto brucia la stessa passione. Ma come possono amarsi se le loro razze sono in guerra e se il padre di Caspar, il re della corte vampira, ha deciso che i due dovranno stare lontani l'uno dall'altro per punire il figlio per la sua ribellione? Violet, divisa tra due mondi, ha una sola speranza, far cessare la guerra segreta che insanguina le strade di Londra. L'unica possibilità risiede nella profezia secondo la quale nove eroine porteranno la pace tra umani e vampiri. Che sia Violet una di esse? Abigail Gibbs ha 17 anni e vive con la famiglia in un villaggio costiero del Devon, nel sud ovest dell'Inghilterra. Si definisce scrittrice, adolescente, vegetariana e tossicodipendente da caffeina. Molte delle sue idee migliori le arrivano mentre salta dal trampolino della piscina. Per Fabri ha pubblicato il primo volume di Dark Heroin, A cena col vampiro. Ecco, come avete sentito una trama molto particolare. Ne abbiamo già parlato, vi ricorderete questo, che è il primo volume della saga che è uscito ad agosto dell'anno scorso. Ne abbiamo avuto modo di parlare approfonditamente. Il secondo, la cui copertina vedete qui al mio lato, da questo lato qua, in realtà è un volume unico. All'estero è uscito come volume unico, mentre in Italia è stata fatta la scelta da Fabri di farla uscire in due separati momenti, anche se a brevissima distanza l'uno dall'altro. Ve lo dico perché questo libro è legato a una linea narrativa di base, che è quella delle nove eroine. Quindi si suppone usciranno nove libri con ognuno una protagonista differente. Chiaramente questi primi due sono con la stessa protagonista perché è diviso a metà. La protagonista è Violet, che ha letto A cena col vampiro la conoscerà già. È una ragazza come tante di 17 anni e viene rapita perché assiste involontariamente a uno scontro tra umani e vampiri. Nel mondo creato da Abigail Gibbs i vampiri esistono, il governo ne ha conoscenza, però c'è una sorta di mutuo patto in modo che loro non uccidano gli umani e di contro gli umani non faranno parola della loro esistenza che potrebbe sicuramente scatenare forti attriti tra le persone. Chiaramente però oltre al governo e oltre ai vampiri ci sono anche i cacciatori di vampiri, coloro che pensano che appunto i vampiri non debbano esistere. E questi ovviamente creano una serie di problemi che si rende difficile tenere nascosto all'opinione pubblica. Ecco, Violet, la protagonista, assiste a un massacro che i vampiri fanno nei confronti di alcuni cacciatori. Chiaramente è una testimone scomoda e viene rapita. Caso vuole che lei odi i vampiri, contrariamente a quello che succede spesso in molti romanzi di questo genere, ma deve accondiscendere le loro condizioni innanzitutto per salvarsi la vita e poi perché viene posta davanti a una decisione non facile, o morire o diventare una di loro. Non c'è nessuna possibilità che venga restituita al padre che è ministro della difesa inglese e deve fare questa scelta, che sembrerebbe facile in effetti, ma per chi odia questa categoria sicuramente non lo è. Bisogna essere sinceri, nel libro lei si innamora di un vampiro, del personaggio che l'ha rapita, che si chiama Caspar e quindi decide, complice anche la profezia delle nove eroine, di trasformarsi in vampiro. Che cosa dice questa profezia? Secondo un filosofo vissuto 500 anni prima rispetto ai fatti, esistono nove mondi paralleli, nove dimensioni più o meno simili tra di loro, più o meno popolate da umani e esseri particolari, esseri del mondo oscuro. In ognuna di queste dimensioni ci sono delle guerre in corso e presto anche il patto che sancisce questa pace di fatto tra i vampiri e gli umani nella nostra dimensione sta per cedere. Queste nove eroine, queste nove donne che sono simili a divinità e che hanno dei poteri molto particolari, devono compiere un loro destino, ovvero quello di salvare tutte e nove le dimensioni. In ognuna di queste dimensioni ci sarà un'eroina. La prima è già stata scoperta ed è nel regno di Atenea e quest'eroina ha il compito di risvegliare anche le altre otto. Violet è una di queste, ma prima di abbracciare il suo destino e diventare un'eroina deve diventare una vampira e lei sceglierà questo percorso. Il libro è un libro per ragazzi ed è rivolto a un pubblico molto giovane. In questo primo volume è dato molto spazio alla storia d'amore tra Caspar e Violet, ma riesce a definire anche quello che è un mondo sovrannaturale, sicuramente interessante e sfaccettato. Il secondo volume, che è Autumn Rose, sta per uscire negli Stati Uniti, ci vorrà un pochino prima che arrivi anche in Italia. Ha avuto molto successo all'estero, la ragazza come sapete è giovanissima, 17 anni, ha iniziato a pubblicare questo libro tramite dei piccoli capitoletti che metteva a disposizione gratuitamente sul suo profilo Wattpad, un sito estero dove gli scrittori possono pubblicare gratuitamente i loro scritti. E pensate che ebbe ben 17 milioni di scarichi, quindi veramente una cifra incredibile, tanto che una casa editrice le fece anche, chiaramente, più di una casa editrice le fecero delle proposte di pubblicazione e chiaramente questo è diventato poi un libro e è stato tradotto in molti paesi in tutto il mondo. Quindi una caratteristica particolare è anche quella di avere il cosiddetto cliffhanger, ovvero ogni capitolo porterà a quello successivo e farete fatica a mettere giù il libro perché sarà sicuramente coinvolgente. Dicevamo rivolto a un pubblico giovane di ragazzi, ha avuto già successo anche in Italia, come vedete la copertina qui di lato di Abigail Gibbs Io amo un vampiro dalla casa editrice Fabri. A questo punto, oltre che consigliarvi questo libro, facciamo una piccolissima pausa e torniamo subito dopo con un altro romanzo di cui vi parliamo.